Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste e Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essi. In essa, Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal libro di Cielo, volume 27, 2 ottobre 1929 Solo la Divina Volontà rende felice la creatura, preda a vicenda. Chi non ha vera volontà di fare un bene è un povero storpiato e Dio non vuole servirsi di loro. Il mio abbandono è vivere nel fiat divino continua, o come potente è la sua forza creatrice, o come abbagliante è la sua luce, che infiltrandosi nelle fibre più intime del cuore le investe e carezzandole si fa luogo e vi erge il suo trono di dominio e di comando, ma con tale dolcezza rapitrice che la piccolezza della creatura resta sparita, ma felice di restare senza vita e sperduta nel fiat divino. Oh, se tutti ti conoscessero, volontà adorabile, oh, come ammerebbero di perdersi in te per riacquistare la tua vita ed essere felici della stessa felicità divina. Ma mentre la mia piccolezza si sperdeva nel fiat divino, e il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno e stringendomi forte, forte al suo cuore divino, mi ha detto. Figlia mia, solo la mia divina volontà può rendere felice la creatura. essa con la sua luce o eclissa o mette in fuga tutti i mali e dice col suo potere divino io sono la felicità perenne fuggite tutti i mali voglio essere libera perché innanzi alla mia felicità tutti perdono tutti i mali perdono la vita chi vive completamente nel mio volere divino è tanto il suo amore che trasforma l'azione della creatura succede uno scambio di vita tra Dio ed essa scambio d'azione, di passi, di palpiti Dio resta avvinto alla creatura e la creatura a Dio diventano esseri inseparabili ed in questo scambio di azione e di vita si forma il gioco tra creatore e creatura uno si fa preda dell'altro ed in questo predarsi a vicenda scherzano con modo divino si felicitano fanno festa e Dio e la creatura si gloriano si sentono vittoriosi che nessuno ha perduto ma l'uno ha vinto l'altro perché nella mia divina volontà nessuno perde le perdite non esistono in essa solo di chi vive nel mio volere io posso dire è il mio trastullo nella creazione e mi sento vittorioso da abbassarmi per farmi vincere dalla creatura perché so per certo che lei non si opporrà a farsi vincere da me perciò il volo nel mio volere sia sempre continuo dopo di ciò stavo pensando a tante cose che il benedetto Gesù mi aveva detto sulla sua divina volontà ai tanti desideri ardenti di lui di farla conoscere e che adonta dei tanti desideri di Gesù nulla spuntava per ottenere il suo intento e dicevo tra me che sapienza di Dio che misteri profondi chi mai li può comprendere lo vuole è dolente perché manca chi le fa la via per farla conoscere mostra il suo cuore che brama sospira che la sua divina volontà si faccia via per farsi conoscere per formare il suo regno in mezzo alle creature e poi come se fosse un Dio impotente si sbarrano le vie si chiudono le porte e Gesù tollera e con pazienza invincibile ed indicibile aspetta che si aprano le porte bussa i cuori per trovare chi saranno coloro che si occuperanno per far conoscere la sua divina volontà ma mentre ciò pensavo il mio dolce Gesù facendosi vedere tutto bontà e tenerezza da spezzare i cuori più duri mi ha detto figlia mia se sapessi quanto soffro quando voglio formare le mie opere e farle conoscere alle creature per dar loro il bene che contengono e non trovo chi abbia vero slancio desiderio verace volontà di fare vita sua all'opera mia per farla conoscere per dare agli altri la vita del bene dell'opera mia che senti in se stesso ed io quando vedo queste disposizioni in chi deve occuparsi che io con tanto amore chiamo e scelgo per le opere che mi appartengono io mi sento tanto tirato verso di lui che per fare che faccia bene ciò che io voglio mi abbasso scendo in esso gli do la mia mente la mia bocca le mie mani e fin i miei piedi affinché in tutto senta la vita dell'opera mia e come vita sentita non come cosa a lui strana possa sentire il bisogno di darla agli altri figlia mia quando un bene non si sente in se stesso come vita tutto finisce in parole non in opere ed io resto fuori di loro non dentro e perciò restano come poveri storpiati senza intelligenza ciechi muti senza mani e senza piedi ed io nelle opere mie non voglio servirmi di poveri storpiati li metto da parte e non badando al tempo continuo a girare per trovare i disposti che devono servire all'opera mia e come non mi stancai di girare i secoli tutta la terra per trovare la più piccola per deporre nella sua piccolezza il gran deposito delle conoscenze della mia divina volontà così non mi stancherò di girare e rigirare la terra per trovare i veri disposti che apprezzeranno come vita ciò che ho manifestato sul fiat divino e questi faranno qualunque sacrificio per farlo conoscere perciò non sono il Dio impotente ma piuttosto quel Dio paziente che voglio che le mie opere si facciano con decoro e da persone volenterose non forzate perché la cosa che più abborro nelle opere mie è lo sforzo della creatura come se io non meritassi i loro piccoli sacrifici e che per decoro di un'opera così grande quella di far conoscere la mia divina volontà non voglio servirmi di poveri storpi perché chi non ha volontà verace di fare un bene è sempre una storpiatura che fa l'anima sola non voglio servirmi di persone che somministrandogli le mie membra divine lo facciano con decoro come merita un'opera che tanto bene deve apportare alle creature e grande gloria alla mia maestà bene iniziamo questa meditazione dalle parole stesse di Gesù che sono una eco una prosecuzione di quelle meravigliose cose che ci ha lasciato già ieri nel brano precedente la rileggiamo questa è una di quelle frasi che solo la mia divina volontà può rendere felice la creatura ecco basterebbe questo per farci una meditazione di qualche settimana solo la mia divina volontà può rendere felice la creatura chi di noi ci crede è quanto ci crede io posso dire dalla mia esperienza dalla esperienza personale da quello che vedo in me e fuori di me anche nella esperienza magnifica straordinaria della vita sacerdotale quindi della cura delle anime quindi della possibilità di conoscere bene all'interno di alcune persone e anche di alcune di tante persone ed anche all'esterno quello che si vede di fuori con l'occhio sempre un po' paternamente vigile del pastore che sta sempre desideroso di vedere il bene delle pecorelle delle anime e quindi quando percepisce quando capta qualcosa che non va evidentemente soffre per loro perché ci sono delle cose che non vanno appunto ora quali sono le cose che non vanno tutto quello che non va è tutto quello dove c'è la volontà umana attenzione alla volontà umana non soltanto nel senso del peccato quella è la forma più seria la volontà umana nel senso del vivere alla umana in mezzo a tante miserie in mezzo a tante piccolezze in mezzo a tante passioni in mezzo a tante piccinerie le chiamavano i santi invito a questo tempo di quaresima le piccinerie innumerevoli nel corso della giornata le persone che si adombrano per un non nulla stanno preoccupate stanno in pensiero stanno agitate stanno frettolose tutte queste cose che sto dicendo sono tutti atti di volontà umana e se noi ci pensiamo qui dice felicità è felice una persona che che ne so al minimo inconveniente gli esalta il sistema nervoso alla minima parola si adombra alla minima critica gli casca il mondo addosso se non riceve considerazione e affetto da parte delle creature va in crisi non mi vuole bene nessuno eccetera eccetera questi sono alcuni esempi molto molto comuni di volontà umana chi campa in questo modo anche se non fa grandi peccati cioè se non si osserva dieci comandamenti quindi non bestemmia osserva il giorno del Signore non è idolatra non cerca di mettere Dio al primo posto cerca di servirlo cerca di essere un bravo cristiano non commette atti impuri non fa uso di droga di alcol che ne so non fuma tutte cose qui no per carità ma è una vita felice? no non lo è cioè non lo è non traspare rivalità contese inimicizie piccoli arrivismi poi ripeto la preoccupazione no? l'agitazione chi vive nella divina con tutte queste cose non le conosce proprio ma anche non soltanto poi la piccolezza no? la grettezza la mancanza la mancanza di generosità la mancanza di slancio la tiepidezza nell'amore di Dio no? quindi come dice Gesù a un certo punto più avanti no? io quando vedo un'opera mia io voglio voglio vedere slancio voglio vedere desiderio verace cioè tu non ti puoi mettere davanti amico contagocce noi non possiamo stare davanti cioè noi le anime sforzate dice come se io non meritassi piccoli sacrifici ma Dio merita tutto da noi mica possiamo pensare che se facciamo qualcosa per lui gli facciamo un favore e questo in qualche modo farglielo magari anche pesare o magari anche notare no? non è non c'è questo non chi campa cioè la mancanza di felicità non è qualche cosa che è come dire direttamente connessa alla presenza del peccato questo vorrei far far capire la presenza del peccato ti porta tritto tritto all'inferno nel senso che la vita diventa una cosa orrida perché si è schiavi di satana perché si è veramente nel malessere più totale più profondo dove purtroppo vive la stragrande maggioranza del genere umano ma anche quando si supera questo step fino a quando si continua a vivere di volontà umana e non si non si fa questo salto di qualità quindi si entra in un orizzonte differente dove tutto questo muore scompare non sarai mai felice non sarai mai felice sarà sempre quella cosa sì quelle persone stanno sempre poco con lo sguardo un po' tristarello quindi con 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 quella patina di tristezza o di preoccupazione stampata sul viso ripeto anime alcune buone no alcune tutte perché insomma chi sta qui ripeto sta già lontano dal mondo del male e il che insomma non è poco ma non è la felicità non è il paradiso sulla terra le letture che sentiremo durante la messa di oggi prima di fare la mitazione stavo come sempre dando un'occhiata per focalizzare anche le cose da dire durante la messa sono spettacolari perché Gesù parlerà nel Vangelo dice se la vostra giustizia non supera quella degli iscriviti farisei non entrerete nel regno dei cieli e poi spara le sue cose grosse no non uccidere io non ammazzo ah va bene non ammazzi ok hai osservato il decalogo ma chi si adira chi dice stupido chi dice pazzo entrare nel regno dei cieli che vuol dire diventare santi certamente se uno ammazza dentro il regno dei cieli non ci entra d'accordo quindi non è che uno può ammazzare ma solo non ammazzare è poco perché chi non ammazza al massimo che succede può essere giusto e forse anche qualche scrive fariseo era giusto sotto questo punto lo scrive è il fariseo attenzione alla mentalità dello scrive del fariseo che è molto diffusa un tempo di più perché oggi non importa niente a nessuno però anche in quei pochi che frequentano chi ha lo scrive il fariseo allora che cosa è peccato e che cosa non è peccato che c'è scritto nella legge questo si può fare questo non si può fare io mi astengo da quello che non si può fare e il resto non voglio sapere niente quindi così sto a posto questa è un come dire è una disposizione molto profonda dell'anime cioè una volta che io sto a posto quindi mi accontento di non stare nel peccato o addirittura nel peccato grave basta ammesso che i migliori cioè gli scrive farisei come sappiamo alcuni erano ipocriti e Gesù si scaglia contro di loro in maniera anche molto 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 forte i farisei erano ipocriti gli scrive a volte erano tronfi e supervi come tutti quanti dotti e dottori ma c'erano alcuni iscrivi a farisei per esempio Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea che facevano parte del Sinedrio c'è da presumere che sessero quanto meno vicini ai farisei certamente non erano ipocriti erano dei giusti no ma il Vangelo di San Giovanni fa vedere come Nicodemo all'inizio seguiva il Signore di Nascosto perché comunque ci teneva a non farsi vedere amico di questo strano personaggio insomma che questo sedicente profeta che sì parlando è tanto sapiente però questo che titoli c'ha non c'ha nessun titolo di quale rabbino è stato discepolo di nessuno e quindi sicuramente era oggetto di disprezzo Gesù perché non aveva nessun titolo ufficiale è uno del Sinedrio se si va vicino a Gesù si attira sopra tutta quanta la derisione di mezzo mondo no quindi questo per dire che loro non erano ipocriti quindi non tutti i farisei erano ipocriti in senso stretto ma erano farisei fino a quando poi non è diventato un discepolo di Gesù cioè siamo a posto quindi l'idea come dire che Dio sia una sorta di notaio che ha detto che alcune cose non si possono fare vabbè facciamolo contento non le facciamo e poi però dentro questo ambito faccio quello che mi pare ecco il problema è sempre il faccio quello che mi pare fino a quando noi non ci si mette nella nostra testolina che faccio quello che mi pare anche nell'ambito dell'ecito non è la felicità non lo è perché anche nell'ambito dell'ecito la felicità è vivo di divina volontà quindi nell'esercizio della libertà nell'ambito dell'ecito io non non mi metto a dire quello che voglio ma cerco in continuazione quello che Dio vuole spero di essere stato chiaro perché guardate questo è il segreto della felicità se non si entra in questo orizzonte noi non gusteremo la felicità sulla terra sicuramente un giorno in paradiso se ci arriviamo sì ma non qui e non gusteremo quell'effetto particolare che Gesù dice con la sua luce eclissa e mette in fuga tutti i mali e ai mali gli dice senti un po' ragazzi vedete annatene io sono la felicità perenne quindi i mali dovete fuggire tutti quanti e attenzione quando dice tutti quando dice tutti parla di mali fisici psichici morali e spirituali via tutti voglio vedere chi ci crede fino in fondo specialmente di questi tempi trovo ancora nonostante adesso il prospettarsi di nuove problematiche ci sono ancora le eco di quelle antiche voglio vedere chi di questi tempi pensa che vivendo nella divina volontà che è la felicità perenne tutti i mali fuggono ma proprio tutti ma proprio tutti e che non dobbiamo andare a cercare spedienti rimedi soluzioni umane ai mali basta vivere perfettamente nella divina volontà che se ne vanno tutti da soli non c'è bisogno neanche di mandarli via non c'è compatibilità dove c'è l'una non ci stanno gli altri e poi chi vive nel mio dolore divino è tanto il suo amore le cose vengono fatte con amore non con lo sforzo anche davanti al signore io mi sforzo e vabbè facciamo sta cosa tocca fare l'avevamo a quaresima e muo a quaresima e facciamo qualche piccolo sacrificio non troppi qualche piccolo sacrificio perché sai quaresima bisogna fare qualcosa che fai non fai niente no pensiamo per esempio alla quaresima se uno vuole stare nell'ambito degli iscrivi e farisei osservanti che cosa deve fare in base alla legge della chiesa pochissimo digiuno il mercoledì delle ceneri digiuno il venerdì santo e gli venerdì di cuore e di cuore si mastinenza dalle carni punto questo è quello che è prescritto dalla legge canonica allora faccio questo e poi per esempio vado al cinema tre volte a settimana ma perché è proibito andare al cinema in quaresima no non è proibito andare al cinema in quaresima non c'è nessuna legge che lo vieta domanda Dio è contento che io vada al cinema in quaresima sarà volontà di Dio che io vada al cinema in quaresima capiamo l'orizzonte è differente ma che se ci vado faccio peccato no non ci fai peccato ma capiamo quindi quello che ci stiamo dicendo io faccio esempi molto molto terra terra è chiaro che queste sono cose piccole sono delle cose molto molto più grandi molto molto più serie no gli esempi servono sempre ad essere un input perché poi chi l'ascolta elabori e ne faccia altri personali e consoni e attinenti alla sua condizione di vita no si arriva ad una vita dice Gesù che si diventa inseparabili inseparabili ma capiamo che significa essere inseparabili cioè io e Dio siamo inseparabili 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 non solo ci si fa preda uno dell'altro si scherza si scherza chi di noi ha mai scherzato con il Signore qui Gesù dice uno si fa preda dell'altro ed in questo predarsi a vicenda scherzano con modo divino si felicitano fanno festa Dio e la creatura si gloriano e nessuno perde nella divina volontà non perde nessuno nella divina volontà la parola sconfitta perdita non esiste lo dice Gesù le perdite non esistono ecco perché noi stiamo sempre tranquilli e sereni se noi stiamo nella divina volontà nella divina volontà non si perde mai si vince soltanto si vince sempre anche quelle che umanamente parlando sono annoverate tra sconfitte ma non lo sono davanti a Dio nella divina volontà si vince sempre non si perde mai i perdenti lasciamoli nella categoria degli umani chi vive di divina volontà non perde mai ma i quindi questo è un orizzonte che altro che gli scrive farisei e noi qui dobbiamo dobbiamo puntare perché vivere nella divina volontà è vivere questa vita vivere questa vita e dice Gesù io ho vagato per secoli tutta la terra per trovare la più piccola e spiega ancora continua a vagare lui va in giro cerca sta cercando cerca 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 chi cerca chi questa vita la vuole cerca anche chi abbia slancio desiderio verace e volontà di fare vita sua l'opera mia per farla conoscere per dare agli altri la vita del bene dell'opera mia che sente in se stesso e qui interviene Gesù dicendo che oi a lui le cose fatte per forza non è che gli piacciono tanto cioè se Dio ti dà una missione questo evidentemente Gesù parla qui primariamente della divina volontà ma pensiamo che ad ogni missione che noi abbiamo una coppia di sposi ma come vive la missione di essere sposo di essere padre o di madre la vive alla grande quindi la vive come una cosa bellissima come una cosa a cui si dedica con gioia con zelo con amore con abbandono con dedizione con cuore grande c'è una bellissima virtù che è una parte della virtù cardinale della fortezza che quando arriveremo nel ciclo di catechesi sui vizi di virtù parlare della fortezza ne parleremo si chiama la magnanimità l'animo grande quindi quello che quello che si dà quello che fa le cose volentieri a Roma dicono col cuore quindi ci mette e tu lo vedi quando una cosa è fatta bene è fatta col cuore ma dalle piccole alle grandi cose cioè un figlio della divina volontà ma come fa le cose ma quando Gesù stava lavorando nella bottega di San Giuseppe ma come lavorava Gesù Gesù lavorava volentieri glorificava il padre e faceva sicuramente delle cose stupende bellissime magari semplicissime ma perfette meravigliose immagina un tavolo fatto da Gesù beato a chi ce l'ha avuto un armadio fatto da Gesù beato a chi ce l'ha avuto un letto fatto da Gesù beato a chi ce l'ha avuto beato a chi ce l'ha avuto quindi nelle piccole come nelle grandi cose slanci desideri noi stiamo servendo il Signore e Dio è degno del top quindi a Dio si dà sempre il top si danno sempre le primizie e lo si fa con gioia lo si fa volentieri anzi siamo onorati di poter fare tante cose per Lui e che ricompensa non è nessuna ricompensa io suggerisco la migliore ricompensa era quella che chiedeva San Giovanni della Croce che era veramente un grande che quando gli apparve Gesù dice mazza Giovanni hai fatto tante cose per me che cosa vuoi come ricompensa cosa voglio patire ed essere disprezzato per amore tuo basta non voglio altro perché quello per noi è l'onore nostra gloria nostro onore è la Croce di Cristo e poi tanto la ricompensa ci pensa Nostro Signore a darcele perché la ricompensa qual è la ricompensa più grande di poter diventare inseparabili con l'Altissimo qual è la ricompensa più grande di vivere qui sulla terra la felicità divina di avere in fuga tutti quanti i mali ma che cos'altro uno può desiderare o può volere niente questo basta e avanza allora chiudiamo con le ultime considerazioni di Gesù perché sono veramente belle numero uno Gesù cerca trova i veri per cercare i veri disposti che apprezzeranno come vita ciò che ha manifestato sul fiat divino qui parla degli apostoli della divina volontà e questi faranno qualunque sacrificio per farlo conoscere ma si fa pure fin in capo al mondo e lo si fa con gioia non è che non si mette tanto al Signore mamma mia signora mia quanta fatica quanto ho lavorato per te mamma mia ma quanto mai è un onore questo qui non è un un onere quindi io sono il Dio paziente e voglio che le mie opere questo mettiamocelo bene in testa si facciano con decoro e da persone volenterose non forzate qui ritorno al tema della libertà ecco perché Dio non ha messo tutte quante le cose sotto legge perché se fosse tutto quanto sotto legge certo che la legge tu puoi trasgredirla ma trasgredire la legge non è più libertà diventa arbitrio diventa certo è una forma di esercizio sbagliata della libertà ma Dio ti lascia libero perché vuole che tu volontariamente ci arrivi a tante cose il valore per esempio in questo tempo di Quaresima è chiaro che le penitenze più grandi quali sono? quelle che il nostro Signore ci mette davanti non è che uno può mettersi a fare 500 penitenze e poi ti arriva una malattia e cominci a sbraitare te la tieni se te la mette il nostro Signore ti arriva una contrarietà una croce un rovescio economico un rovescio sul lavoro le cose che ti mette davanti lui piccole e grandi però la penitenza volontaria ha questo cioè che noi ci mettiamo lo facciamo volontariamente quindi non mi obbliga nessuno io liberamente mi metto davanti a Dio voglio offrirti questa cosa ma con tutto il cuore e questo Gesù lo apprezza a prescindere poi da quello che uno fa è il gesto è che tu volontariamente potresti non farlo una cosa non te lo ordina il medico non è sotto pena di peccato e la fai e gliela offri e questo lo devi decidere tu metti davanti a Lui che cosa vuoi fare per il Signore punto interrogativo vuoi fare qualcosa io voglio che le mie opere si facciano con decorre da persone volenterose non forzate la cosa che più abborro nelle opere mie è lo sforzo della creatura come se io non meritassi i loro piccoli sacrifici cioè quelli che fanno le cose per fare un favore al Padre Eterno sono pure venuto a Messa la domenica però basta ma guarda che non mi hai fatto un favore a venire a Messa la domenica ti ho fatto un favore io a istituire l'Eucaristia e se nella città dove vivi c'è ancora qualcuno che ci avrebbe la Messa tutti i giorni sappi che quello è un grande favore e se tu andassi a Messa pure tutti i giorni non è che mi fai un favore a me fai un favore a te questo sia ben chiaro cioè non è che noi facciamo un favore al Padre Eterno lo facciamo a noi un favore il Padre Eterno è contento perché noi siamo facciamo delle cose buone che vanno per il nostro bene ma facciamo un favore a lui chi non ha volontà verace di fare un bene dice ancora è uno storpio volontà verace di fare un bene persone le persone che fanno che vivono con il Signore sono persone belle sono persone sono personalità risanate solide ferme nel bene non sono mezzi storpiati io non mi servo di persone che sono così le persone con le mezze volontà o con le volontà flebili devono fare le cose con tutta la volentosità possibile e devono farle bene lo facciano con decoro a Dio non possiamo dargli il monnezzaio ma guardiamo come fanno le cose gli esseri umani guardiamo come fanno oggi i film per esempio sono piccoli capolavori quanti soldi ci mettono quanta cura ci mettono quanto lavoro ci mettono e perché le cose del Signore devono essere sempre fatte come dire in maniera penosa no il Signore si dà il meglio del meglio almeno uno ci prova nel piccolo ecco ci mettiamo in riflessione per comprendere come la nostra libertà si muove dinanzi a queste sollecitazioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie. Un grande grazie Signore Gesù anche per tutto quello che oggi ci hai donato. Grazie a tutti. Qualche cosa di più bello, di più grande. Nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.